Assessore all'attuazione del programma del Comune di Trapani, da questa fine siete quasi in procinto di deliberare un ulteriore sborso di soldi per dare serenità all'aeroporto di Biggi, in particolare alla AERGES. Però mi sa che non siete del tutto convinti di questa manovra. No, siamo convinti che nonostante il Comune di Trapani negli anni abbia sempre rispettato gli impegni assunti con il contratto di comarketing, debba ancora fare la sua parte per sopperire alle mancanze dei comuni nadempienti, quali Castelvetrano, Pantelleria e altri piccoli comuni. Sostanzialmente i due grandi nadempienti sono Castelvetrano e Pantelleria. Però, e quindi grazie anche alla collaborazione col segretario del Comune di Marsala, abbiamo già redatto l'atto di indirizzo che porterà a stanziare quelle, almeno di competenza del Comune di Trapani e degli altri comuni, le somme che saranno necessarie per saldare il debito con Ryanair, con AMS più che con Ryanair. Ciò non di meno, riteniamo questa, diciamo, strategia del tappare i buchi non vincente. Ci saranno aspettati sicuramente qualcosa di più dal management dell'aeroporto di Trapani, dell'AERGEST, perché se dobbiamo immaginare, soprattutto in era post-Covid, che la strategia di sviluppo dell'aeroporto si regga sui soldi che devono mettere i comuni in epoca in cui i comuni si troveranno ad avere bilanci asfittici, diciamo che non caveremo un ragno dal buco. Da questo management che si è presentato come il migliore, come quello che aveva tutte le soluzioni in tasca, ci aspettavamo qualcosa di più. Ad oggi contiamo l'arrivo di Alba Star, non sappiamo cosa questa compagnia potrà provocare di positivo per il territorio, una compagnia almeno a me sconosciuta, ma sappiamo che abbiamo perso l'Italia, che invece in termini di volumi di traffico sicuramente rappresentava qualcosa di più. Quindi noi ci aspettiamo, ci auguriamo e collaboreremo che questo management, piuttosto che fare passerelle sui palchi a destra e sui palchi a sinistra, presenti un piano industriale che possa realmente assicurare sviluppo al nostro aeroporto. Fermo il restante, e ovviamente dovrà avere in questo il supporto anche della Regione, che non ha messo nessuna risorsa fresca, a differenza di quello che aveva fatto il Governo regionale precedente, e dunque noi ovviamente non ci tireremo indietro, faremo ancora una volta la nostra parte, ma lo faremo a sostegno di un reale e forte piano industriale. Se questo non ci sarà, bisognerà evidentemente anche discutere di cosa può fare questo management e se ce ne vuole eventualmente uno nuovo, ma questo è un problema che dovrà affrontare anche la Regione siciliana, che è il socio unico di fatto. Una contrapposizione o una sollecitazione? No, noi non ci contrapponiamo, però evidenziamo i problemi, si fa sempre a gridare contro gli enti locali, anche quelli virtuosi che hanno sempre pagato, e invece non si guarda mai alla propria coscienza, alle proprie azioni. Sarebbe il caso che prima ciascuno di noi guardasse alle proprie azioni e poi pensasse a quelle degli altri, perché altrimenti c'è qualcosa che non funziona. Grazie a tutti.